Emozionati davanti alle reliquie di Padre Pio con il sindaco di Colle Corvino, presidente della provincia di Pescara, Antonio Zafiri, con il maestro Sergio Rendine. Un momento molto importante. Sappiamo che lei è credente, è religioso, presidente. In questi momenti come si sente? Beh, l'emozione è tanta, tantissima. Sinceramente ho poche parole. Niente, è emozionante. Sapeva prima d'ora che il santo di Petralcina aveva sempre con sé l'immagine della Madonna di Colle Corvino, di Casalbordino, però che aveva uno stretto legame con il suo paese. No, questo non lo sapevo. Infatti quello che mi ha colpito ancora maggiormente, vedendo queste immaginette della Madonna di Casalbordino, che è poi la Madonna dei Miracoli, anche che è Colle Corvino, è la stessa, ancora di più. Quindi è un'emozione particolare perché a Colle Corvino siamo tutti devoti alla Madonna dei Miracoli e quindi questo ci rende ancora più emozionati. Una bella giornata, impreziosita anche dalla conoscenza del maestro Sergio Rendine, un'icona in campo musicale, una persona che ha vergato dei momenti indelebili nella storia della musica italiana. Sì, ho avuto oggi l'onore di conoscerlo, avevo sentito parlare del maestro Rendine ma non avevo mai avuto il piacere e l'onore di conoscerlo. Oggi l'ho conosciuto, è un personaggio da conoscere ed oggi è stato ancora più emozionante perché vedere queste reliquie e conoscendo il maestro Rendine mi ha fatto tanto piacere. È un onore averlo nella nostra provincia.